Trasferte impegnative per Chieti e l'Aquila, derby abruzzese al Dei Marsi tra Avezzano, miglior attacco del Gironef, e Notaresco. Una domenica tutta da seguire per le abruzzesi della Serie D. Per la gara di domani a Senigallia, squadra è completa per l'Aquila, eccetto l'infortunato Alessandro. Dopo la vittoria di Campobasso, cresce l'entusiasmo nel settore ospiti dello stadio marchigiano. Ci saranno 150 tifosi aquilani. Mister Epifani potrebbe optare per la stessa formazione iniziale di Campobasso con qualche modifica, ma il tecnico rosso-blu, come sempre, scioglierà i nodi solo prima della gara. Tornano a affrontarsi, vent'anni dopo, Sora e Chieti. Nei primi anni 2000, due certezze del panorama della Serie C del centro Italia. Chianese ha svolto la rifinitura al mattino, ma non ha lasciato trapelare nulla sulla formazione iniziale. Dubbi su Gatto e Mancini. Il primo potrebbe, al massimo, partire dalla panchina. Il Sora, dopo un avvio incerto, è reduce da due successi consecutivi. Il Chieti occupa la prima piazza con 10 punti, frutto di un pareggio iniziale e di tre vittorie consecutive. Saranno più di 200 i tifosi teatini al seguito di Forgione e compagni. Le parole di mister Mauro Chianese alla vigilia della partita. Io ho la fortuna, come ho sempre detto e ribadisco, di avere un gruppo di professionisti. Quando hai a che fare con chi ha calcato anche i palcoscenici importanti, è molto più semplice da parte mia riuscire a gestire queste situazioni. È naturale che quando c'è una cosa abbastanza ampia, ci sono diversi che a volte ci rimangono male, perché allenarsi tutta la settimana e poi andare in tribuna non far piacere a nessuno. La forza di questo gruppo è proprio quello che sanno benissimo che è in un contesto di una società importante e quando c'è che vengono chiamati si fanno trovare pronti. Quindi quando c'è il giusto condobbio è una cosa che ci fa crescere. Per quanto riguarda il gioco, come ho sempre detto, all'inizio facevamo un po' fatica, però pian piano stiamo crescendo.